Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Torniamo a incontrare oggi, dopo un po' di tempo, il grande Italo Calvino, in assoluto insieme a Giuseppe Pontigia, il mio scrittore preferito italiano. Prima che diciate... Ecco appunto, vi spiego perché ho scelto oggi questa citazione di Italo Calvino, che riguarda il significato, o per meglio dire, la funzione della letteratura. A cosa serve la letteratura oggi? Penso che sia una domanda veramente molto impegnativa. Oggi in cui tutto è stato inglobato dalla tecnoscienza, nella sua forma più, come possiamo definirla, più brutale. Cioè nella sua forma di analisi, risultati dell'analisi, prescrizioni sulla base delle analisi e imposizioni sulla base di prescrizioni, sulla base delle analisi, sulla base dei dati. Direte, beh, insomma che male c'è, mi sembra perfetto. Sì, peccato che non appena cambiano i dati, cambiano le analisi, cambiano le prescrizioni e cambiano le imposizioni. E questi dati possono cambiare, come sappiamo, su base settimanale. E poi arriva la domanda a un noto virologo, gli viene chiesto, secondo lei le scelte di questo governo sulla base dei dati, il governo le ha definite scelte calcolate? Risposta, calcolate male, stacco, tre settimane dopo, stesso virologo. Ma mi scusi, lei aveva detto che le scelte erano calcolate male, che ci sarebbe stato un disastro di contagi. Stiamo parlando naturalmente dell'inevitabile argomento della pandemia. Lei aveva detto, non più tardi di 15 o tre settimane fa, che ci sarebbero stati effetti apocalittici, eppure non ci sono stati, nonostante le riaperture, non ci sono stati enormi contagi, non c'è stata l'ondata terrificante che lei aveva paventato. Come lo spiega? Risposta, ah beh ma sono cambiati i dati. Stacco, 21 se non erro giugno 2021, intervista al ministro dalle belle speranze, Speranza, ministro della malattia, cioè volevo dire scusate ministro della salute, vabbè la battuta era scoperta, grazie non dovevate. Quando pensa che finalmente finiranno le restrizioni, ministro? Risposta ecumenica di quest'uomo, in mano, totalmente in mano alle disposizioni del CTS, cioè del Comitato Tecnico Scientifico. E lui con questo atteggiamento, sempre un po' mesto, sempre un po' malaticcio, del resto è il ministro dell'omonimo ministero, risponde, beh io con un certo ottimismo direi che entro la fine di luglio 2021, potremmo dire che l'emergenza sarà finita e che le restrizioni saranno finite. 8 luglio, se non erro, 2021, proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021 e introduzione del Green Pass, cioè di nuove ulteriori restrizioni, con anche lo spettro di nuove zone gialle. Tutti noi ci siamo chiesti, giusto, ma qual è il motivo di questo completo rovesciamento di prospettiva? Ci aveva garantito il ministro, sulla base dei dati probabilmente, che a fine luglio 2021 si sarebbe tornati alla famigerata normalità, l'emergenza sarebbe comunque finita. A metà luglio dice esattamente l'opposto, cioè dice che l'emergenza continuerà per almeno altri sei mesi, nuove restrizioni e prospettive nuovamente fosche. Qual è il motivo? Boh, nessuno lo sa perché nessun giornalista ha fatto questa domanda. Probabilmente saranno cambiati ancora i dati. Eppure viviamo ormai in un... rapidamente, è stato molto rapido, questo è l'aspetto probabilmente più inquietante di tutta la faccenda dal nostro punto di vista. È diventato rapidissimo il sottostare ciecamente, dogmaticamente, fideisticamente alle disposizioni della scienza, della tecno-scienza. E non dimentichiamo un aspetto molto importante, niente affatto collaterale. Il completo dominio da parte dell'informazione, anche dell'opinione, soprattutto dell'opinione, nell'informazione, unicamente di medici, virologi, immunologi, igienisti, chirurghi plastici, gerontologi e affini figure, a cui abbiamo completamente delegato, a cui abbiamo abdicato anzi il senso critico, semplicemente aspettando il loro risponso ed eseguendo attraverso le prescrizioni e le imposizioni tutto quello che derivava dalle loro decisioni. E come mi disse quel tale, quando esprimevo una mia opinione, forse già ve ne ho accennato, se l'ho fatto perdonatemi, è l'età che avanza, mi rispose, ma sei un medico te? Ma sei un medico te? Al che calcolai la distanza, ero in un campo da tennis, tra la mia racchetta e la sua fronte e questo naturalmente era scientificamente misurabile. Meno misurabile era la percentuale tra la sua fronte che incontrava la mia racchetta e invece il completo autocontrollo, come è stato naturalmente, essendo io un saggio imperturbabile. Ecco, gesto non misurabile scientificamente, ma effetto di una elaborazione assolutamente non scientifica, puramente interiore. Ecco perché ho scelto questa citazione di Italo Calvino, che ci dice qual è la funzione per lui della letteratura, cosa serve la letteratura e che cosa ancora ci può insegnare la letteratura. Ma vorrei estendere questa citazione a tutto il resto, a che cosa serve la ricerca interiore, a che cosa serve la crescita personale, a che cosa servono le letture degli storici antichi di Erodoto, che abbiamo citato alcuni giorni fa, della filosofia antica, a cosa servono le ricerche che io per esempio faccio in merito alla spiritualità, o a cosa serve studiare musica, a cosa serve cercare di capire come funziona l'arte, come funziona il disegno, o a che cosa serve capire perché si sente il bisogno di cercare qualcosa che vada oltre il mero apparire della realtà, il mero apparire dei sensi e delle cose. A che cosa serve tutto ciò che va oltre la scienza, che per fortuna è irriducibile rispetto alla scienza, che è ingovernabile dalla scienza. Voi sapete che un po' vanitosamente amo ripetere che il mio metodo, Maintree, è un metodo rigorosamente non scientifico. Nella vanità della locuzione, perdonatemela, c'è però la verità del sentire e la verità della ricerca. Non perché una ricerca non è scientifica, e poi, e lo abbiamo già detto diverse volte, bisognerebbe andare a vedere che cosa significa scientifico, certamente non dovrebbe significare fideistico né dogmatico, ma al di là dell'aspetto del metodo scientifico, l'importante secondo me è che il rigore della ricerca sia a fondamento. E questo rigore della ricerca, in ogni ricerca, questo rigore non è dato dalla scienza, è dato dalla filosofia, perché è dato dal valore che si dà al fondamento, al principio, del ruolo fondativo che si assegna ai valori, della certezza che si sta facendo quella ricerca unicamente per trovare ciò che di più alto, di più importante e di più fine a se stesso si vuole trovare, fine a se stesso nel senso delle aspirazioni più alte, più elevate e non sottomesse al lucro, al profitto. Anche se, come ben sapete, e credo di essermi spiegato a sufficienza in passato, il guadagnare, quindi il commercializzare anche le proprie idee non è qualcosa di contronatura, anzi è qualcosa che fa parte della costruzione della propria realizzazione. Se si usa ciò che si scopre, ciò che si inventa, ciò che si crea, non per il fine del lucro, non per il fine del profitto, ma attraverso il guadagno per la realizzazione degli scopi più elevati. Questa non è ipocrisia, questa è la vera realtà dei fatti. Ma è importante soprattutto che rivendichiamo noi umanisti, noi filosofi, che oggi non contiamo niente, ma la pietra scartata dal costruttore è la pietra che è diventata testata d'angolo. Ecco cosa dice Italo Calvino sul significato della letteratura, su che cosa ancora ci insegna la letteratura. Dice Italo Calvino, le cose che la letteratura può ricercare e insegnare sono poche ma insostituibili. Il modo di guardare il prossimo e se stessi, di porre in relazione fatti personali e fatti generali, di attribuire valore a piccole cose o a grandi, di considerare i propri limiti e vizi e gli altrui, di trovare le proporzioni della vita e il posto dell'amore in essa e la sua forza e il suo ritmo e il posto della morte, il modo di pensarci o non pensarci. La letteratura può insegnare la durezza, la pietà, la tristezza, l'ironia, l'umorismo e tante altre di queste cose necessarie e difficili. Il resto lo si vada a imparare altrove, dalla scienza, dalla storia, dalla vita, come tutti noi dobbiamo continuamente andare a impararlo. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. contro il logorio della vita moderna. contro il logorio della vita moderna.